Emanuele Vaccaro, docente di archeologia all'Università di Trento. Qual è la storia dello scavo di Dos Penede? Questo sito, quantomeno la parte protostorica e romana di questo sito, era nota localmente a partire dagli anni 90 del secolo scorso grazie alle prime pioneristiche esplorazioni di alcuni appassionati locali. Però per un lunghissimo periodo, di fatto fino al 2018, non c'è stata attenzione sulla realtà archeologica che caratterizzava questo importante contesto. E solo a partire dalla fine del 2018 è iniziata questa fruttosissima sinergia tra soprintendenza della provincia autonoma di Trento, il Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Comune di Nago Torbole per intraprendere un progetto di ricerca pluriennale sull'insediamento protostorico e romano del Dos Penede. Cosa ci racconta questo scavo? Quali sono le novità emerse nell'ultima campagna? Ma si tratta di un insediamento di grandissimo interesse. Innanzitutto perché è un sito pluristratificato, nel senso che le nostre ricerche hanno messo in luce almeno tre grandi periodi di occupazione, di cui la più antica occupazione data già all'età del bronzo recente, quindi siamo tra la seconda metà del XIV secolo a.C. e il secolo successivo. Dopodiché c'è un gap dell'insediamento per diversi secoli e il sito conosce un'espansione significativa nel corso della seconda età del ferro, quando questo insediamento è riconducibile al mondo retico. Il terzo grande periodo di occupazione si colloca tra la romanizzazione e la tarda età imperiale, quindi all'incirca tra la seconda metà del I secolo a.C. e gli inizi o la metà del IV secolo d.C. È un sito di grande importanza perché si tratta di un insediamento molto esteso. La superficie massima è di circa 3 ettari che ipotizziamo essere capillarmente occupati, soprattutto in età romana, ma la densità di occupazione era piuttosto estesa anche durante la seconda età del ferro. Quello che sta emergendo con chiarezza è che al di sotto delle strutture d'età romana intercettiamo in maniera pressoché sistematica stratificazioni e strutture murarie riconducibili alla seconda età del ferro. Quindi il sito romano si imposta direttamente su un preesistente insediamento della seconda età del ferro. Le caratteristiche sono di grande interesse, soprattutto per l'età romano imperiale. Si tratta di un insediamento chiaramente non nato come iniziativa spontanea di una comunità locale, ma un progetto organico molto complesso e articolato che viene quasi calato dall'alto ed è frutto di un'iniziativa verosimilmente di natura pubblica, ipotizziamo, legata alla città di Brescia, poiché questo territorio, l'area alto-gardesana in età romana, afferiva all'agro bresciano. Qual è il valore di Dos Penede per la didattica di Unitrento? È un valore molto importante per la didattica perché questo contesto offre l'opportunità ai nostri studenti e alle nostre studentesse di svolgere un apprendistato sul campo, quindi un training archeologico sul campo e peraltro in un contesto che è quello di riferimento del nostro Ateneo. Questo è molto importante perché di fatto per un lungo periodo la cattedra di archeologia classica del Dipartimento di Lettere e Filosofia di Unitn non ha avuto progetti archeologici sul contesto territoriale trentino che è quella realtà che auspicabilmente potrà dare ai nostri studenti e alle nostre studentesse delle opportunità lavorative. Per cui sin dal momento in cui ho preso servizio presso il nostro Dipartimento ho ritenuto fondamentale sviluppare una sinergia, una collaborazione stretta con la soprintendenza per poter promuovere delle attività di ricerca archeologica sul territorio trentino. E infatti, dato molto importante e molto significativo, è che questi progetti consentono appunto ai nostri studenti e studentesse del Dipartimento di Lettere e Filosofia di svolgere un'attività di ricerca sul campo attività di ricerca che è aperta anche a studenti e studentesse della nostra laurea interateneo con le Università di Ferrara, Verona e di Modena e Reggio Emilia.